L'emergenza dei cittadini, le incertezze e il dramma economico delle famiglie. Tutti quanti noi viviamo nella reclusione obbligata della casa, con le difficoltà di una vita sconvolta, spesso in situazioni rese difficili e drammatiche dalle criticità economiche e sanitarie. Quanta gente ha dovuto chiudere la propria attività, quanti sono stati toccati dall'epidemia o ne vivono l'insicurezza strutturale fatta di condizioni e parole finora sconosciute. I tamponi, i positivi, gli asintomatici, la quarantena, a tutto questo una differenza c'è rispetto a qualunque situazione storico-sociale precedente, che risulta ancora più evidente nella costruzione domestica a cui siamo obbligati. Abbiamo a disposizione, chi più chi meno, una serie di mezzi di comunicazione, dal telefonino al televisore al personal computer, che consentono di stabilire una rete di contatti e di essere in connessione con l'esterno. In questi anni si è molto discusso delle opportunità dei problemi che questi mezzi comportano. Adesso ne misuriamo lo straordinario potenziale di interazione, con una dottilità che può passare dall'intrattenimento alla conversazione o al lavoro. Bisognerà vedere inoltre quanto dureranno questi giorni e dunque gli effetti di una media o lunga durata sulle nostre dinamiche psicologiche, considerando la diversità delle condizioni tra chi vive da solo, in coppia o in famiglia. La forzata coabitazione, specie tra genitori e figli, bambini, adolescenti, ciascuno con le loro peculiarità al genere nazionale. Ma il nostro pensiero va a tutti coloro i quali vivono di incertezze e di precarietà, che non riescono a sbarcare tra qualche settimana in lunaria, se non arriveranno gli aiuti di sostentamento da parte del governo. Sarà dura per tutti, per questo e altri motivi dobbiamo essere forti e pronti ad affrontare con la dovuta calma il momento e non lasciarsi andare a isterismi improvvisi. Si arriverà ad una soluzione comoda per tutti i nuclei familiari che in questo momento vivono nel dramma economico. Registriamo l'appello di un cittadino alle istituzioni. Signor Conte, c'è una cosa veloce veloce e gentilmente. E chi non condivide questo video, chi non condivide questo video, secondo me, vi sta bene allora per come siete. Perché quello che dico io, secondo me, lo vogliono sapere tutti. Gentilmente, signor Conte, stasera, stasera, non domani però, stasera, ce lo vuole dire in diretta quando è che è mandato i primi aiuti. Chi è che è in cassa integrazione quando arrivano i primi soldi? Perché, io lo dico io, già ai 15 giorni, 20 giorni circa che siamo dentro e siamo alla frutta. Le dico una cosa come me, chi è che ha questi bambini, vedete questi bambini qua, mia figlia sta mangiando questo pezzo di pane con la Nutella. Se, come mia figlia, altri bambini fra qualche giorno non riescono a mangiare questo pezzo di pane. Sia tranquillo che lei non se ne sta a casa senza rimosso, perché faceva la rivoluzione. Forse non è chiaro il discorso, quindi gentilmente stasera, per rassenare un po' a tutti, deve dire quando è che arriveranno i primi soldi di cassa integrazione, quando arriveranno gli aiuti. Non si sa maio, aprile, maggio, forse prima, dopo, arriveranno. Abbiamo bisogno ora. I piccoli fanieri, signor Conte.